quello di cui ti voglio parlare oggi invece è un nuovo filato appena arrivato è un filato in seta tweed un filato di bici garn è una seta tussa ovvero è ricavata dai bozzoli della seta non allevati però selvatici ha uno spessore particolarmente irregolare è molto resistente e assorbe moltissimo l'umidità questo vuol dire che ti fa stare molto fresca d'estate e allo stesso tempo la rilascia quindi si asciuga in fretta guarda che belle sfumature ho scelto alcuni colori perfetta per magliette